a metà di nove anni james vede morire in un tragico incidente l'amica sarà poco più giovane di lui una morte di cui si sente responsabile e il cui ricordo lo inchioda anche ora che è un brillante professore universitario finché un giorno uno spinto da una voce interiore decide dimolare tutte partire per il south dakota determinata raggiungere il crazy horse memorial il monumento a cavallo pazzo che ha visto poco prima in una trasmissione televisiva viaggia tutta la notte attraversa tre stati si ferma solo per fare il pieno di benzina e di caffè arrivata destinazione si imbatte in one big ante un medicine man la cota e dice di averla vista in una visione di essere arrivato fin lì solo per incontrarlo sotto la guida di one big conte e attraverso un lungo apprendistato james compirà una vera e propria discesa dentro se stesso e finirà per ritrovare sarà anche se non gli sarà facile riconosce alla prima vista ma finirà anche per scoprire molto di più